Molte volte quando parliamo di paesaggio trascuriamo la componente geologica che in realtà invece diviene proprio struttura identitaria, ossatura del paesaggio. Quindi la finalità, lo scopo di questo evento è mettere in luce quanto sia importante, conoscere, interpretare le forme del paesaggio perché attraverso le forme del paesaggio è possibile conoscere la storia della Terra, le vicende del nostro pianeta. E su questa questione i geologi ovviamente sono sicuramente gli unici che hanno competenze e conoscenze.